A colazione un uomo io gradirei, sono socievole mi piace così, a mezzogiorno un languorino che poi potrei tattiare con due di voi. Se vuoi venire qui per l'orare te, come biscotto puoi aiutare anche me, poche portate sai le sereo perché, a letto presto verrai con me. Se tu saprai sorprendermi, sarò per te l'amante fideale ma, se soffrirai non te la puoi prendere con me perché, anche una rosa punze sai. Portate i uomini che mi divertirò, con loro toccherò, finché verrà mattina presto che voglio godere un po', potrebbe non succedervi mai più, se siete uomini datevi a me.